martedì 10 febbraio è la prima serata del festival di sanremo dell'anno domini 2015 a inizio proteste programmate permettendo alle ore 21 con la diretta tv su rai 1 ricordiamo che a presentarlo c'è quest'anno carlo conti coadiuvato dalle due cantanti italiane arisa vincitrice del festival dello scorso anno ed emma marrone lanciata al successo da amici e vincitrice dell'edizione 2012 la serata inaugurale del festival vede l'interpretazione del proprio brano da parte dei 10 dei 20 campioni in gara ecco la scaletta della serata in riferimento ai cantanti b il primo esibirsi è nesli con buona fortuna amore seguito da nina zilli con sola grazia di michele e mauro coruzzi in io sono una finestra dear jack con il mondo esplode nec fatti avanti amore anna tatangelo con libera il volo con grande amore moreno oggi ti parlo così lorenzo fragola con siamo uguali ed infine laura fabiana con voce è l'ultima cantante della prima serata gli otto artisti della sezione nuove proposte di sanremo vengono solo presentati e sono serena brancale con galleggiare giovanni caccamo ritornerò da te caligola con oltre giardino cuzzo con elisa enrico onigiotti con qualcosa da decidere rachele io non lo so cos'è l'amore amara con credo e shanty con ritornerai ospiti illustri della prima serata del festival di sanremo 2015 martedì 10 febbraio sono tiziano ferro in promozione per la sua antologia di canzoni dal titolo tzn the best of e per il suo tour estivo in italia ed anche la coppia riunita albano carrisi e romina power che canteranno felicità